Vi siete mai chiesti che cosa succede lassù, nel laboratorio dei RED? Per anni aveva lavorato a un suo progetto segreto, una formula per flagellare il mondo con il vero orrore. Trasformare il RED in mostruose creature. Ma il fuoco della speranza non smette mai di bruciare. La lotta per riconquistare l'umanità è appena cominciata. Grazie a tutti. Scegli il tuo RED e preparati alla battaglia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.